Amici buongiorno, siamo a metà dell'atto orientale della Corsica. Abbiamo alle nostre spalle un vento fresco che viene da sud con mari abbastanza calmi. Noi stiamo per arrivare, o meglio, siamo in direzione di Bastia e al nord non so se si vede una perturbazione con pioggia. Il mare non è preoccupante, il comandante Marongio saldamente ha il governo dell'imbarcazione, mentre Giuseppe sta preparando uno spaghettino delicato con agli oli, peperoncini e pomodoro fresco. L'unico modo per affrontare il mare. Alessandro osserva la situazione, stabilmente ancora da bordo, mentre Carlo si fa delle balle, ma anche quello fa parte del gioco. Vediamo sulla nostra destra le isole dell'arcipelago toscano, nonostante la foschia e nonostante le nuvole si vedono abbastanza bene. E proseguiamo vento in poppa per Bastia che dovremo raggiungere stasera verso le 6, 6 e mezza. Un abbraccio a tutti! Un abbraccio a tutti!